Ciao a tutti e a tutti! Tanti messaggi, cioè ma tanti, ma tanti, io ho cancellato tutte le chat che avevo prima e ho lasciato solo le vostre e cioè, non so se ci intendiamo, sono più di 1400 chat, quindi io adesso dovrei praticamente fare una cernita delle domande un po' più carine, quelle che non si sono ancora mai sentite. Naturalmente leggo solo le domande con il video come vi ho richiesto, perché così è più carino, più interattivo. La prima è ilary.c93 Ciao Ila, le mie domande sono, qual è il tuo film preferito in assoluto e quali sono le tre città che vorresti visitare che non hai ancora visto? Un bacio grande! Un bacio anche a te! Le città che vorrei visitare, le tre città? Allora, una, Perugia, perché non ci sono mai stata mai, Venezia, ci sono stata ma quando ero piccola quindi non la ricordo e poi Singapore, così andiamo oltro oceano proprio. Il mio film preferito in assoluto, come già saprete, se non lo sapete adesso lo sapete, è Avatar, io, è fantastico, basta. Sofia.meini invece mi chiede questa cosa. Qual è la tua canzone natalizia presenta? Di Vandu Bastia d'Oruccia? Che carina! Allora, la mia canzone natalizia preferita in assoluto, come penso quella di tutti, è All I Want For Christmas di Mariah Carey, che è... Cioè, ogni volta che la senti ti si scalda il cuore natalizio che c'ho in te, no? Bellissima! Poi abbiamo Pazzaglia-Bas Sara, che mi chiede... Ciao Ila, allora, ti volevo chiedere se avevi magari intenzione di fare un colore pazzo ai capelli, sei sempre bellissima. Ciao, un bacio! Che amore che siete! Comunque, allora, io ho sempre desiderato, non so se mi seguite da un po' di tempo, saprete che avevo le punte, tipo una cosa così, colorottaneo, quel blu un po' verde, che a me fa impazzire. Ecco, io ho sempre avuto il desiderio di fare tutti i capelli, però sono cosciente del fatto che se lo facessi dovrei praticamente rasarmi a zero, perché il pigmento verde è quello che rimane più di tutti sul capello e quindi non se ne andrebbe mai, a meno che non te devasti i capelli. Quindi penso è un sogno che non accadrà mai, a meno che tipo non mi compro una parrucca, quello sì. Cioè, questa ragazza che si chiama Xstoria, che mi ha fatto una domanda molto interessante, ve la faccio sentire. Ciao Ila, volevo chiederti qual è secondo te la parte del tuo carattere che è migliorata da quando sei su YouTube? Sicuramente una cosa su cui sono migliorata è l'autostima, perché comunque sia avere voi che, anche solo quando mi incontrate per strada, mi riempite di complimenti, mi dite che comunque faccio qualcosa di buono, oltre a quello che comunque mi piace fare, mi riempie il cuore di gioia proprio. Allora, questa è una domanda un po' scherzosa e me la chiede Agolino 1. Ciao Ila, scusami se non mi faccio vedere, però comunque la domanda che volevo farti è che se vedessi Kylie dal vivo, che faccio faresti? Cioè, come rimarresti? Immobile? Allora, lei mi chiede se tipo dovessi vedere Kylie così nei miei sogni più pazzi, ecco, come sarebbe la mia faccia? Senza ombra di dubbio. Poi Chiara Zemuno Smile mi chiede una cosa anche qua un po' particolare. Ciao Ila, allora, tu non hai pensato come sarebbe la tua vita se tu fossi un maschio? Un bacio, ciao! Io, sinceramente, ci ho pensato, perché comunque ti viene sempre il dubbio, penso, no? Sicuramente, e ve lo dico proprio col cuore, la prima cosa che farei se fossi un maschio è fare la pipì. Perché secondo me è una cosa stranissima, cioè, oddio, mi sto imbarazzata troppo a dirvela. Comunque, ci ho pensato, ci ho pensato, non mi vedrei sicuramente come un maschio, non avrei mai voluto essere un maschio, detto proprio dal cuore. Anche se essere donna è molto più complicato, molto più pesante, è meglio di essere un uomo. Poi, primo snap di un maschietto. Allora, Ali-On11. Ciao, Alaria, ti volevo chiedere quali sono i tuoi propositi per questo 2017. Ti auguro buone feste e felice all'unnovo. Un bacio. Sicuramente uno dei propositi per il 2017. Spero di trovare qualcuno che mi voglia bene, semplicemente, cioè, non mi devo amare come il Titanic. Molto semplicemente che mi voglia bene. Questo, diciamo che è un po', in realtà, l'augurio che mi faccio ogni anno. Poi, vabbè, quello che succede sono dettagli. Però, più o meno è questo. E poi, che comunque quelli intorno a me siano felici, io sia felice. Le classiche cose, sinceramente, non mi auguro mai niente di troppo ambiguo. Valerie, I love, mi fa anche qua domande che io ci penso sempre, quindi è molto azzeccata. Quanto ti piacerebbe, nella vita reale, avere questi filtri da mettere a differenza della persona che incontri al momento? Tipo questo, quando c'è un figo? Allora, a parte il fatto che è carinissima, davvero bella, quindi super complimenti. Poi, io ci ho sempre pensato quanto sarebbe, cavolo figo, se c'è un figo, fare il filtro, quello con le farfalline in testa, tutto che ti sfida, ti fa l'occhio più luminoso, tutto da filtrona, no? Fighissimo, ci ho sempre pensato e lo vorrei. Quindi, Dio, nelle prossime creazioni che farai, mettici questa, grazie. Poi, Marticatta2001 mi chiede... Ciao Ilaria, la mia domanda è, da quanto tempo è iniziata questa passione per il make-up? Un bacione. Come sempre un bacione anche a voi. Poi, allora, la mia passione per il make-up in realtà, da quello che ricordo, perché io ripeto che ho una memoria tanta così, l'ho sempre avuta, sin da piccola, ho ritrovato anche l'altro giorno una foto, tipo quando avevo 3-4 anni, che mettevo le mani nel borsello di nonna e mi mettevo, tipo, il mascara, vabbè, in posti inconcepibili, tipo, il mascara sulle sopracciglia, cose che, vabbè. Però, comunque sia, c'è sempre stata, io sono sempre stata, tipo, molto femminile, non mi è mai, mai, mai venuto in mente, neanche mezza volta, di non utilizzare, ad esempio, i trucchi, quindi c'è sempre stata questa grande passione. Alessi Ucci mi fa una domanda molto importante. Ciao Ilaria, mi chiamo Alessia, volevo chiederti se quando hai aperto il canale hai avuto paura di essere giudicata dagli altri, ti mando un bacio. Allora, sicuramente appena ho aperto il canale ho avuto dei forti dubbi, perché, ripeto, non ero proprio ai livelli di oggi, cioè, come confidenza di me stessa, eccetera. Quindi ero un po' preoccupata sotto questo punto di vista, comunque se le persone mi avessero fatto una critica, come avrei potuto reagire, eccetera, eccetera. Però devo ammettere che ho raggiunto molto meglio di quello che pensavo, sicuramente. E il consiglio che, infatti, do a tutte le persone che, comunque, vogliono aprire un canale o hanno un canale, ma magari si vergognano di caricare dei video, è proprio questo, cioè, di non far conto del giudizio della gente, cioè, fate quello che, comunque, vi piace, senza stare troppo con l'ansia. Oddio, adesso qualcuno dirà qualcosa, perché, altrimenti, qui, nessuno dovrebbe più fare niente. Degiglio.mrs Che tesoro. Allora, in realtà, il Natale mi piace per una cosa in particolare, cioè, che tutta la famiglia si riunisce, perché io, in particolare, ho una famiglia che, comunque, si vuole bene, eccetera, eccetera, ma, dato che anche le mie cugine più grandi lavorano, vanno all'università, no, non ci vediamo tanto spesso quanto vorrei. Quindi il Natale mi piace proprio per questo, perché, comunque, siamo tutta una giornata insieme, tra mangiare, giocare, aprire i regali. Ed è bellissimo, secondo me, per quello. Poi, il mio effetto di Snapchat preferito, adesso ve lo faccio vedere, anche se, comunque, cambiano sempre, però, il mio effetto, in assoluto, preferito, è questo qui. Tan tan tan! Quello con le farfalline, che vi dicevo prima. Stella Ceriani mi chiede. Allora, con questo effetto molto natalizio, volevo dirti, a parte che ti amo, ma, ehm, volevo chiederti, hai mai pensato di lasciare YouTube e di prenderti una pausa, per poi cambiare idea? Allora, questo qui, come penso, tutti saprete se mi seguite da un pochino, avevo fatto un video dove avevo scritto, tipo, come titolo, mi sembra, lascio tutto, o qualcosa del genere, comunque. Penso sia stato anche, precisamente, un anno fa, perché era un pochino prima di Natale, se non mi sbaglio, poi, correggetemi, dove, appunto, dicevo che mi ero stufata, che era un periodo un po' pesante, eccetera, eccetera. Ma adesso che è passata tutta quella sventata di tristezza e depressione, penso non lo lascerei mai. Cioè, a parte che ormai, per come sono fatta, sono cresciuta con YouTube, no? Non riuscirei più a staccarmici, molto sinceramente, cioè, anche se, tipo, finissi e domani YouTube proprio chiude come sito e cosa in generale, cioè, io penso che continuerò a fare video lo stesso. Perché come faccio per condividere le mie cose con il resto del mondo, scusate? Poi, Bazzurro mi chiede una cosa molto interessante. La mia domanda è, ti sarebbe piaciuto avere un altro fratello o sorella, oltre a Giorgia, oppure al posto di Giorgia? Sicuramente, vabbè, al posto di Giorgia non credo, cioè, ormai ci sono così abituata, mi rompe così tanto le pelotas che non penso si potrebbe cambiare. Comunque, a parte questo, io ho sempre voluto avere un fratello più grande, cioè, chi non vuole avere un fratello più grande può essere il rompicogliones quanto vi pare, ma, secondo me, è la cosa più bella del mondo e adesso vi spiegherò le mie motivazioni. Ti porta gli gnocchi a casa, cioè, non gli gnocchi da mangiare, ma gli gnocchi in senso ragazzi gnocchi. Seconda opzione, che ha sempre a che fare con i ragazzi in casa, ho sempre sognato che succeda, tipo, come le fanfiction oppure, tipo, i libri che leggono, che ti fidanzi con il migliore amico di tuo fratello, cioè, secondo me è top, io ogni volta che ci penso vorrei fosse reale tutta questa cosa. E infatti vorrei tanto, quando sono grande, lo so che questa cosa non si decide, però mi piacerebbe tantissimo avere un figlio maschio come primo genito e poi, tipo, dopo due anni o così, insomma, poco tempo, avere una figlia femmina, così la faccio contenta. Quindi, sarò di mamma. Se guarderai questo video quando sei più grande, se ancora esisteranno questi video, ringraziami se sarà così. Altrimenti, niente. Quindi, la risposta fondamentalmente è sì, ho sempre avuto un fratello più grande, ma anche se fosse stato più piccolo nel senso dopo un giorno, già mi sarebbe andato bene lo stesso, mi sarei accontentata. Mari, sì, sei. Mi fa sempre una domanda che, guarda caso, è molto inerente a quello che stavo dicendo, cioè, il futuro. E mi chiede... Prima dovete sapere una cosa, che per me, il matrimonio, la famiglia, i figli, la vita, è una cosa che mi immagino sempre. E lei mi ha chiesto il vestito, allora, io sono fissata con queste cose, quindi capirete che è molto, molto, molto difficile questa domanda. Però, diciamo che ho un prototipo di vestito in mente molto così. Cioè, sarebbe corpetto, quello fatto a cuore qua sopra, tutto stretto così. Tutto pieno di svaroschi, qualsiasi cosa più sbrillantosa che conosciate. E la gonna, tipo, super pomposa, come quelle tipo... Questa è la vita, e qui parte la gonna, che prende tutta la visione qua dello schermo. Tulle, tutte quelle cose chiffon, morbidose, pompose. Tutte cose molto glitterose, quindi questo sarebbe proprio il top. Queste erano quindi tutte le domande... Perché ho fatto prima così e poi così? Non lo so. Comunque, queste erano tutte le domande a cui, appunto, volevo rispondere. Volevo dirvi una cosa molto, molto importante, perché ultimamente YouTube sta facendo un po' i capricci. E non segnala i video agli utenti che magari sono iscritti al canale e vogliono vedere i video. Quindi, una cosa che vi chiedo di fare per voi, per me, per tutti quanti, è attivare la campanellina che trovate qua sotto. C'è una campanellina bianca, se è più scura l'avete attivata. Detto questo, vi mando un mega bacio. Spero questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, thumbs up. E iscrivetevi, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!